pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati e buona solennità dell'epifania che non è la festa della befana che tutte le altre porta via ma la manifestazione del signore alle genti rappresentate dai magi nel cammino dei magi abbiamo un autentico cammino di fede di persone che camminano e arrivano all'incontro con cristo e quest'incontro le cambia le trasforma ecco i magi probabilmente erano degli astronomi orientali della media della persia secondo alcuni anche astrologi forse gente di corte comunque persone dotte benestanti che avevano accesso anche ai testi sacri e alle profezie di quel tempo vi erano diverse profezie anche nella loro terra che parlavano della venuta del messia che sarebbe arrivato in giudea e si parlava proprio di lui come di una luce che sarebbe sorta in giuda i magi vedono questa stella e si mettono in cammino secondo alcuni studiosi questa stella fu la cometa Arley secondo altri fu un fenomeno particolare l'allineamento tra saturno e giove che diede vita a segni particolari di luce nel cielo comunque vada sicuramente questa stella ha un significato teologico come già vi ho accennato noi potremmo vedere in questa stella anche quei desideri belli veri e profondi che ci sono nel nostro cuore tant'è che giovanni paolo secondo disse quando sognate la felicità sappiatelo no cercate dio i magi ci mostrano la cosa più bella il mettersi in cammino quando si scorge quella stella il vero problema nella vita non è quello di non essere arrivati alla verità ma è di non volerla più cercare non è quello di non trovare il senso di ciò che si sta vivendo ma non volerlo più cercare il problema non è essere caduti ma non volersi più rialzare il problema non è non essere perfetti ma rassegnarsi e adattarsi a come si è o viceversa pensarsi arrivati per evitare la fatica del cammino no i magi si mettono in cammino e questo è meraviglioso questo può valere per la ricerca del signore essere persone che cercano la verità nella loro vita in ciò che fanno questo può valere per la ricerca vocazionale saper ascoltare il proprio cuore i segni che dio ha seminato nella nostra storia senza paura che dio ci possa chiedere qualcosa di più perché soltanto in lui che c'è la nostra vera piena e profonda realizzazione la gioia del cuore nella sua santa volontà i magi ci insegnano l'arte di mettersi in cammino vedono la stella e partono tantissime altre persone l'avranno vista molti come loro avevano anche accesso alle profezie ma ma loro camminano chissà qualcuno avrebbe pure potuto prenderli per sciocchi per un po strani pensate armano cammelli e dromedari con tutto necessario per il viaggio scusate dove andate ma andiamo giusto qualche nazione più là in giudea perché è perché forse è nato il messia chi ve l'ha detto ma abbiamo visto una stella nel cielo ci sono delle profezie chissà quanti li avrebbero presi per matti ma loro seguono la stella seguono quell'intuizione di bellezza che dio ha seminato nel loro cuore non stanno fermi camminano partono e dove vanno si recano al palazzo di erode e giustamente cerchi un re dove lo cerchi nel palazzo regale interessante la stella quel punto svanisce ecco c'è quell'intuizione di bellezza che ti fa mettere in cammino ma non basta loro seguendo la loro inclinazione naturale il ragionamento umano arrivano e cercano il re nel palazzo del re lo cercano nei segni del potere ma il vero re non è lì lì c'è un altro tipo di regalità quella di erode quello di colui che domina che vuole essere padrone degli altri e controllore degli altri quello che non è disposto a lasciarsi spodestare che vuole essere lui l'assoluto della vita erode infatti all'annuncio dei re magi ha paura ha paura di qualcuno che lo possa spodestare e la paura lo spingerà ad uccidere tanti bambini erode rappresenta l'orgoglio di chi non vuole essere messo in discussione cerca soltanto se stesso sant'agostino parlava dell'amore di sé che può arrivare a estromettere totalmente anche dio dalla propria vita ci sono io e basta in un film molto bello su sant'antonio di padova c'era questa frase che diceva io dio una sola consonante cambia tutto i magi dunque arrivano lì ma il messia non è lì erode manda chiamare gli esperti delle scritture che passatemi l'espressione gli dicono pure l'indirizzo di casa di gesù del messia ecco costoro rappresentano quelli che sanno ma paradossalmente non camminano infatti cosa gli diranno ai magi questo dicono le scritture andate questo è il rischio ridurre la fede delle nozioni da sapere la fede cristiana non è sapere che dio esiste e neanche soltanto conoscere le verità che ci ha rivelato la fede cristiana è un rapporto di fiducia con il signore che diventa un vivere in comunione con lui e mettere in pratica le sue parole ciò che ci ha rivelato i magi si lasciano condurre dalla scrittura che gli viene spiegata dalla comunità credente ripartono qui abbiamo un dato fondamentale vedete il fraintendimento dei magi in fondo il fraintendimento di dio dell'idea che naturalmente sia di lui noi perché ciò sia purificato abbiamo bisogno di incontrare la scrittura e passare attraverso la carne di gesù abbiamo bisogno di chi ci spiega la scrittura che ci viene trasmessa spezzata cucinata dalla mamma chiesa perché i nostri passi siano orientati sulla via del vangelo questo ci dice anche qualcosa di bello per il nostro discernimento cioè quando noi abbiamo una intuizione ci passa un pensiero la prima cosa importante da fare chiederci ma quest'idea questa cosa che vorrei fare mi aiuta ad avvicinarmi di più a gesù ad amarlo di più a imitarlo di più mi aiuta a donarmi di più quindi i magi per continuare il loro cammino hanno bisogno di incontrare la scrittura e di lasciarsela spiegare dalla comunità credente ciò che san pietro dirà in una sua lettera le profezie non vanno soggette a privata interpretazione perché mossi dallo spirito parlarono i profeti dunque noi abbiamo bisogno della comunità credente che guidata dallo spirito santo c'è la spezza c'è la cucina c'è l'annuncia e da qui anche l'importanza dell'accompagnamento spirituale per essere aiutati a leggere meglio la nostra vita la luce della parola da un fratello da una sorella più avanti più maturi nella fede la bellezza della mediazione proprio della chiesa nel nostro cammino con il signore i magi escono di lì e sorpresa ecco la stella rinasce la gioia come dire quando rientri nella volontà di dio c'è sempre la gioia quando si va fuori mira te ne rendi conto perché manca qualcosa dove si nasconde invece il signore la sua volontà nella via che gli traccia per noi c'è la gioia c'è la comunione con lui i magi partono e arrivano alla casa dove c'è maria con in braccio gesù un'icona molto bella della chiesa stessa entrati prostratisi lo adorarono un verbo meraviglioso che indica il riconoscerne la dignità assoluta i magi sanno riconoscere in quel bambino non solo il messia ma dio stesso che si manifesta non come il potente di turno ma come un bambino inerme come qualcuno che si consegna nelle nostre mani come qualcuno che non è venuto per divorare ma farsi nostro cibo affinché possiamo lasciarci amare diventare capaci di amare come lui ci ama ultimo punto dopo averlo adorato e aver lasciato i loro doni i magi ripartono e ritornano per un'altra strada vengono avvisati dall'angelo del magheggio di erode a livello esistenziale mi piace sottolineare il fatto che l'incontro con gesù li porta a cambiare strada mi viene in mente una ragazza che ricevendo sulle mani l'eucaristia si senti trafiggere il cuore da un pensiero o dio tra le mie mani non posso continuare a buttar via la mia vita come ho fatto fino ad ora una volta che lo incontri e cammini con lui man mano il cuore cambia e man mano cambiano abitudini modi di fare inizi a riscoprire l'essenziale e viceversa la vanità di tante cose inutili cosa va lasciato incontratolo non puoi continuare come prima scopri quanto sia bello l'amore scopri quanto sia luminosa la verità inizi a lasciare le strade dell'ambiguità inizi a vivere una misura più alta della vita chiediamo allora la grazia signore che l'epifania possa davvero aiutarci tutti a riscoprire la gioia di averlo incontrato il desiderio di volerlo seguire lasciando tutte le vie storte e contorte che magari fino ad oggi ci hanno contraddistinto per vivere una vita più luminosa più vera e più bella che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti